Ciao, sono Michael, responsabile del servizio PrimaGomma, il primo comparatore di pneumatici solo per gommisti. Prima che ti parli del servizio PrimaGomma, lasciami dire che siamo una società di consulenza e servizi specializzata nel settore automotive e in particolare nel mondo del gommista, quindi il tuo. Dopo anni di consulenza presso di voi, abbiamo sviluppato lo strumento necessario ed esclusivo per te, per risolvere la fase più critica del lavoro di oggi, lavoro che è completamente cambiato dai 10 anni a questa parte. Oggi sembra quasi un lavoro stagionale a causa o merito del cambio gomme invernale ed estivo, e il tempo risulta essere una variabile fondamentale, perché tutto il lavoro si concentra in pochissime settimane. Se sei già un nostro cliente, sai già i vantaggi che diamo al tuo lavoro. Se non ci conosci ancora, ti invito ad ascoltarmi con attenzione per questi pochi minuti, perché sto per svelarti il segreto che fa la differenza fra un gommista di successo e un gommista qualunque, tra chi vende bene e chi vende male. Sicuramente anche tu saprai che per guadagnare devi avere clienti e prodotto da offrire. Se parliamo di prodotto, ci riferiamo ovviamente ai pneumatici. Magari stai già pensando, ma io so già come fare e dove comprare. Tranquillo, non vendo gomme, né ti voglio consegnare da chi comprare. Forse compri già a un buon prezzo, o prediligi vendere pneumatici delle case, magari acquistandole a un prezzo migliore rispetto ad altri tuoi colleghi. Di certo compri tramite B2B dai tuoi formatori personali, le case di pneumatici e dai grossisti esteri. Non è vero? Mai, mai come oggi, hai avuto così un'ampia scelta il prodotto da vendere. Eppure perdi buona parte dei tuoi vantaggi in un'unica fase. La fase più critica. Che tu sia un gommista molto strutturato o che lavori da solo è per tutti la fase della ricerca del pneumatico, soprattutto quando si è di fronte al cliente. Non importa quale sistema di lavoro si adotti. C'è chi inizia ad aprire tutti i siti per confrontare i prezzi davanti al cliente. Chi si memorizza una serie di prezzi per fare l'offerta al cliente e poi va a cercare il pneumatico al prezzo migliore. Chi battezza tu e tre fornitori senza guardare nemmeno altro e li apre ogni volta che deve fare un prezzo davanti al cliente. Precludendosi altre opportunità che spesso non sono legate al prezzo, bensì alla vendita stessa. Perché la vendita è costituita da vari fattori e il prezzo è solo uno di questi. Ed anche se chiaramente importante, non è l'unico. Poi c'è chi si dedica alle sole case di pneumatici, dimendicandosi che ha almeno un migliaio di pneumatici l'hanno da gestire fuori dalle case. Fa comunque gli stessi procedimenti appena elencati. In ogni caso, perdi tempo e energia psicofisica e capacità di concentrazione. E la vostra capacità produttiva cala enormemente, causando una mostruosa perdita di vendite. Considera che nel periodo del cambio gomme, se ti va bene, fai una vendita a ogni quattro clienti entrati. Quindi, quante vendite stai perdendo senza rendertene conto? Sei tu il venditore. Noi possiamo darti uno strumento per semplificare le tue vendite, aumentandole fin da subito del 30%. Il costo più alto che hai e che non torna è il tempo. E più clienti e più macchine fai in un'ora, più il tuo fatturato chiaramente aumenta. Essendo le ore costruite da 60 minuti, devi utilizzare strumenti che ti riducano il tempo drasticamente. Sono certo che sai di dover gestire al meglio il tuo tempo. Ed è il motivo per cui infatti organizzi il montaggio dei pneumatici utilizzando smontagomme ed attrezzature di ultima generazione, ottimizzando quindi le postazioni di lavoro. Ma il punto critico è nella fase di preventivo ed offerta al cliente, ovvero nel momento della vendita. Se perdi la vendita, tutta la tua organizzazione del lavoro serve a ben poco. Per montare gomme bisogna prima venderle bene e in tempi brevi. Utilizzare uno strumento pratico ed efficace come prima gomma è la soluzione più facile ed immediata. Un esempio. Chi sta già utilizzando prima gomma? A parità di volume di affari ha ridotto i tempi con un terzo della fatica e una migliore qualità del lavoro. Leggi le recensioni dei tuoi colleghi sul sito o qui sotto. Ogni imprenditore come te usa una strategia personalizzata in base al proprio lavoro, tempo e di mezzo a disposizione. Se ti vuoi differenziare aumentando le tue vendite senza stravolgere il tuo lavoro abituale, la soluzione è semplice ed immediata. Con prima gomma potrai in un'unica ricerca trovare e confrontare tutti i pneumatici presenti dai tuoi fornitori personali. Hai capito bene? Guadagni tempo, non memorizzi più nulla, hai detto tutto sotto gli occhi in pochi secondi, saprai prezzo e disponibilità e marche di tutto il tuo mercato in pochi secondi. Al cliente devi solo decidere cosa vendere e quale prezzo. Oggi l'occasione che hai è di provare il servizio gratuitamente e senza alcun impegno. Registrati e prova subito il servizio che molti di tuoi colleghi stanno già utilizzando. Non rimanere indietro, stai inoltre per iniziare la stagione invernale. Parti con un vantaggio competitivo rispetto ai tuoi colleghi che ancora non conoscono prima gomma. Prima gomma è un servizio web che non appesantisce il tuo computer ed è facile da utilizzare, anche per te che non sai utilizzare bene il computer. E se hai bisogno, chiamaci e ti aiutiamo telefonicamente e senza impegno nella registrazione e nell'utilizzo del servizio. Devi avere solo una connessione ad internet e registrarti al portale, come fai con i B2B dei tuoi fornitori. Guarda il video che segue e capirai quanto ti semplifica il lavoro. Poi scopri il Magic Box. È il momento di cogliere questa offerta e di scoprire come può migliorare il tuo lavoro. Mettimi alla prova, non ti costa nulla. Se ti piace prima gomma, lo usi gratis se usufruisci dei suoi vantaggi. Se non ti piace, potrai vantarti di aver provato una novità del tuo mercato e averla trovata non adatta al tuo tipo di lavoro. Ma se sei un gommista e prevedi di esserlo nei prossimi anni, devi provarci per rimanere al passo con il tuo mercato che cambia. Subito e gratis, senza vincoli di alcun tipo. Tutti i tuoi dati rimarranno riservati e trattarti allo stesso modo del tuo home banking. La tua sicurezza è per noi la base di partenza per una collaborazione proficua. La prova è gratuita e senza impegno. Devi solo cliccare qui sotto o nel link per registrarti e dovrai configurare il portale dei tuoi fornitori personali. Se hai bisogno di assistenza o chiarimenti, contattaci senza impegno alla nostra e-mail info-primagomma.com oppure telefonicamente. Trovi tutti i nostri riferimenti sul sito. Registrati subito e a presto! Grazie! Grazie!